Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, oggi si cammina. Com'è? Una piccata. Grande. Si rifà? Madonna ragazzi. Ma che si rifà? Si fa direttamente il corso. No, il grosso casino è che i 50-60 secondi in testa sono 30. Grande. Vai, alla prossima.